Una vera e propria spedizione punitiva alla quale hanno partecipato più di dieci persone arrivate sul posto a bordo di tre auto di grossa cilindrata, moto e scooter, una sorta di parata militare, una dimostrazione di forza per ostentare il proprio potere criminale di fronte a tutto il quartiere Zen di Palermo. E' proprio questa la lettura data dagli investigatori della squadra mobile palermitana all'agguato portato a termine, in perfetto stile mafioso, il 23 marzo scorso. Quel pomeriggio un commando armato ha tentato di uccidere Giuseppe Colombo e i suoi due figli durante un inseguimento avvenuto per strada in pieno giorno con decine di colpi sparati ad altezza d'uomo mentre le vittime cercavano di fuggire. Alla fine i destinatari degli spari sono scampati all'assalto ma due di loro sono stati colpiti a braccia, gambe, glutei e talloni e per questo trasportati dalla terza vittima rimasta miracolosamente illesa all'ospedale Villa Sofia del capologo siciliano. L'indagine ha portato a individuare e arrestare quattro palermitani ritenuti complici di due fratelli già fermati per lo stesso motivo la notte successiva alla sparatoria. Gli investigatori hanno scoperto che il tentato duplice omicidio è stato l'epilogo di una vecchia storia di rivalità e rancori tra gruppi criminali che la mattina precedente all'agguato era stata infiammata da un'accesa discussione tra quelle che sarebbero diventate le vittime del raid armato e i due fratelli arrestati. Subito dopo l'agguato gli esecutori hanno tentato di ripulire la strada dalle tracce degli spari lasciando comunque sul posto almeno una decina di bossoli per poi nascondere subito le armi utilizzate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.